E dopo un po' di tempo a riposar, sono tornato e devo lavorare, manca la voglia e le idee non ne ho più, come farò a fare il latino? Manca la voglia e le idee non ne ho più, come farò a fare il latino? Mi segno presto e se non dormo mai, se così peggio non mi speccherei, sono già stanco ma devo lavorare, manca la mossa e non mi lamentare. E' amata, vado? E' fai, e' fai, e' fai, mannaggia a me, chi me l'ha fatto fare, mannaggia a te, chi me l'ha fatto fare? E si, vado sbattuto sempre su e giù, la colpa sai, e' la tv. E' va sbattuto sempre su e giù, la colpa sai, e' la tv. Il buono poi alla fine eccomi qua